è stata una carriera lunga lunga sono orgoglioso e felice che è durato lunga questa carriera calcio mi ha fatto inventare uomo Milan mi ha dato felicità, la seconda volta mi ha dato amore ho viaggiato per tutto il mondo grazie a calcio è tutto grazie a calcio Oggi è l'ultima giornata come professionista da domani sono uomo libero adesso arriva il prossimo capitolo della mia vita grazie a tutti grazie a tutti